Tutele, difficoltà, vita quotidiana delle persone con disabilità di fronte alla pandemia. Questo è il titolo del quinto rapporto sulle disabilità in Toscana 2020-2021. In Toscana vivono 30.651 persone con disabilità a carico del servizio sociale, con un incremento di circa 6.000 assistiti in più in un anno. Il quinto rapporto dell'osservatorio sociale regionale nell'anno della pandemia di coronavirus ha trattato anche le modalità con le quali i servizi sociosanitari ed educativi dedicati alle persone con disabilità hanno affrontato l'emergenza. Per gli interventi e i servizi a sostegno della disabilità, la regione ha stanziato per le zone di stretto 144 milioni di euro, 16 milioni in più dell'anno precedente. Riscontriamo dai dati una buona capacità di presa in carico, di individuazione delle diverse tipologie di bisogno legate alle persone con disabilità e quindi un sistema che sostanzialmente è in grado di intercettare. Un sistema che a mio avviso è anche in grado di fare l'ulteriore salto di qualità su cui invece c'è ancora da lavorare, come ci richiedono le tante associazioni che rappresentano questo mondo, che è quello di costruire progetti individualizzati perché ci sono le persone con disabilità, non c'è la disabilità. All'interno del rapporto anche un'indagine sul primo lockdown dove è emerso che l'area disabilità è stata quella che ha maggior sofferto le restrizioni imposte nell'emergenza covid per la chiusura dei centri diurni, l'interruzione dei servizi alla persona e l'isolamento sociale.